praticamente a ognuno di noi viene mandato di nuovo una lettera in cui si invita ciascuno di noi a esercitare un diritto di opzione c'è qualcosa che abbiamo omesso, però abbiamo omesso qualche cosa che comunque adesso non ce l'abbiamo allora cercando di magari consentono anche gli amici camporelasivi di fare un po' un assunto così per meglio chiarire ai lettori il 10 maggio esattamente del 2006, questo è tutto ovviamente documentato, le organizzazioni sindacali consegnano a ciascuno degli inquilini una proposta di accordo cioè come intenderemmo noi sindacati muoverci con la proprietà per trovare un accordo ai fini di vendere il complesso immobiliare questo accordo ovviamente preve alla rottura era poi da approvare in una chiamiamola adunanza di tutti gli inquilini del 12 maggio e attraverso quella approvazione della proposta scritta del 12 maggio i sindacati avrebbero ottenuto quindi un mandato per poi sottoscrivere una, ripeto cito letteralmente i documenti, una formale intesa con la proprietà che era finalizzata appunto a favore nell'acquisto di tutte le unità al minor costo di acquisto possibile così risulta ora in particolare nella proposta consegnata agli inquilini erano previste le seguenti condizioni c'era una scheda tecnica che indicava il prezzo della unità immobiliare comprensivo anche del posto auto e della cantina però nella scheda tecnica non era indicato anche il prezzo di acquisto di tutto il compendio mobiliare che era necessario per poi parametrare col prezzo quota dell'appartamento era anche, non era indicata ovviamente la superficie commerciale attribuita all'appartamento singolo e non erano indicati neanche i relativi criteri di calcolo poi ovviamente c'era un'altra scheda dove ovviamente si significava agli inquilini che si sarebbe raggiunto un verbale di accordo tra queste organizzazioni la CONIT CASA, società referente ai sindacati che era il soggetto attuatore e ovviamente la VIS in modo da poter poi far sottoscrivere un contratto preliminare di compravendita tra la VIS e la società CONIT CASA o una sua controllata che sarà la Tintoretto Gestioni Immobiliari all'esito della sottoscrizione del preliminare la Tintoretto, che poi appunto sottoscrisse con la VIS il preliminare avrebbe inviato ovviamente a tutti gli inquilini una lettera contenente termini e modalità per esercitare il diritto di opzione e la lettera venne inviata infatti il 26 giugno del 2006 gli inquilini come erano reggiti allora? lascio la parola agli amici che hanno un po' noi abbiamo reagito abbastanza sconcertati, sconfortati perché in realtà quella proposta d'acquisto è tutta citata, è tutta documentata se non andiamo a leggere quella proposta d'acquisto ci rendiamo conto di come le leggi, di come lo Stato, di come chi vuole lei protegga o no il cittadino lei con quella proposta d'acquisto che è documentata, che è depositata lei vede che veniamo obbligati appena la perdita del diritto di opzione a fare una procura, pagarla una procura che è documentata in che modo vengono applicati l'avvocato? perché è un discorso molto articolato perché se ti parla di una proposta è un po' difficile pensare a un discorso lei mi consenta, sono troppo coinvolto perché se lei va a leggere la proposta d'acquisto la proposta di opzione d'acquisto lei si mette le mani nei capelli come per dire ma chi è che comprerebbe in questo modo? come sono, c'è dei punti molto... stavorevoli sia la proposta di opzione che è depositata cioè diciamo per quanto riguarda il vostro... è depositata, è documentata per cui noi leggiamo questa proposta... a questo punto voi siete così in giudizio chiaramente, no? ci siamo, abbiamo provato no, così in giudizio ci eravamo già costruiti per chiedere tutte quelle due documenti no, 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 no ah no, no, chiedo scusa non avete ci dato in giudizio ci siamo, ci siamo a seguire che è successo che si sono un po' smembrati si sono un po' smembrati gli inquilini c'è stato un po' di allargamento delle file qualcuno ha cominciato a pensare che non ce la facevamo qualcuno ha continuato a pensare che non era il caso di mettersi contro nessuno qualcuno ha pensato... cioè, moralmente... è difficile mettere insieme 300 persone chiaramente moralmente, psicologicamente, ci eravamo molto indeboliti non c'era più una maggioranza effettiva, piena che potesse dare forza a tutta quanta quella che era l'idea dei concorrenti appartamenti e quindi ci siamo un po' smagliati la devo interrompere un attimo perché abbiamo urgenza di mandare la pubblicità poi ritorniamo immediatamente a riparlare appunto del problema state ascoltando Radio Roma ritorniamo ancora, eccoci di nuovo al studio grazie alla regia e a questo punto inizia appunto la vertenza diciamo in sede giudiziale, giusto? sì e a questo punto, visto che entra in campo l'avvocato che vi rappresenta vorrei far spiegare a lui, insomma, e cosa succede appunto all'avvocato Andrea Baudino una cosa volevo solamente sottolineare che noi, dopo tutte queste cose qua, volevamo avere chiarezza sull'accordo volevamo sapere come era il contratto preliminare come erano state spalmate le quadrine, eccetera, eccetera e i sindacati si sono opposti non ci hanno dato mai una risposta compreso la Conit cioè vi siete riporti all'avvocato? cosa c'è da questo punto in poi l'avvocato? beh, chiaramente non avendo ricevuto ufficialmente nessun tipo di risposta per la consegna della documentazione che era necessaria per poter cercare di esercitare consapevolmente in maniera informata questo diritto di opzione dato che qui si tratta di comprare appartamenti ovviamente inevitabilmente si è dovuti giungere a dire l'autorità giudiziaria come è stata impostata in sostanza la causa? ovviamente sulla ricostruzione dei fatti che poi è rafforzata appunto dai documenti che ovviamente hanno citato gli amici Campo Lerasile si è chiesto sono rimaste 12 persone poi alla fine sono 12 ricorrenti esattamente 12 persone sono rivolte al mio studio e appunto mi hanno incaricato di analizzare un pochino i profili di questa vicenda per cui io ho ravvisato in prima battuta l'esistenza di un conflitto di interessi proprio nella stipulazione del famoso verbale di accordo quello del 26 maggio 2006 e i successivi perché poi sono accordi esecutivi di quello del 26 maggio ovvero il preliminare e le lettere di opzione inviate dalla Tintoretto proprio perché ovviamente conflitto di interessi che è individuato da parte di chi? cioè i sindacati avevano ricevuto nella sostanza un mandato rappresentativo da parte degli inquilini a far loro acquistare questi appartamenti cerco di essere stringato al massimo al minor costo di acquisto possibile e ovviamente minor costo di acquisto possibile che dai documenti in atti non è dato ovviamente riscontrare sia in quanto, in prima battuta ma questo emerge la vendita di un immobile, di uno stabile che comprende solo unità abitative a 73 milioni di euro chiaramente fa cazzotti con la vendita di un intero complesso immobiliare ovvero compresi anche aree commerciali appartamenti spitti a 93 milioni come era il precedente accordo e in seconda battuta dalle perizie che mi erano state sottoposte dal chiamiamolo comitato tecnico dell'associazione degli inquilini emergeva quella erroneità nel calcolo delle superfici commerciali che portava ad un aumento dei prezzi di acquisto degli appartamenti e comunque in ultima battuta ovviamente chiedevo appunto l'annullamento di questi contratti per conflitto di interessi o comunque un inadempimento ai contratti di mandato che ovviamente i sindacati avevano assunto con i loro inquilini e che vedeva chiaramente poi coinvolgere tutti gli accordi in essere quindi tutte le parti però siccome come ben voi purtroppo sapete la giustizia in Italia è chiaramente pachidermica stante ovviamente la lunghezza dei tempi processuali abbiamo dovuto inevitabilmente a dire l'autorità giudiziaria con un ricorso di urgenza cioè chiedere nel frattempo che l'intera procedura venisse sospesa proprio in attesa di poter definire il giudizio nel merito della docenda anche perché le lettere della tintoretta hanno stato inviate il 26 giugno gli inquilini dovevano esercitare l'opzione entro termini stretti e perentori queste proposte di esercizio di diritto di opzione contenevano clausole a mio modo di vedere vessatorie e comunque poco trasparenti e carenti anche ovviamente di documentazione necessaria per poter ovviamente esercitare un'opzione consapevole basti pensare che mancavano ovviamente le tabelle millesimali mancavano ovviamente le planimetrie degli appartamenti il regolamento di condominio mancavano alcune ovviamente normative questa istanza di provvedimento d'urgenza è stata accorta? è stata inoltrata no è stata rigettata dal Tribunale di Roma con una ordinanza che io trovo francamente sbalorditiva perché il giudice ovviamente si è pronunciato dicendo che in parole povere non sussistendo un diretto di prelazione secondo legge un diretto di prelazione poteva essere riconosciuto agli inquirini solo a condizioni diverse ovvero o dai contratti di locazione o da accordi successivi che erano intervenuti con la parte locativa